con l'amico suo fino a piazza. Allora con l'amico suo dove andate? Perché non esce il terzo persona? Sul sito abbiamo stampato mia figlia e dice che ha accompagnato un amico suo da Parma a piazza, poi da là lei doveva fare un colloquio. Cioè che colloquio devo fare con mio figlio? 17 anni? Io ma non so di indagine perché non so allora, non mi appartiene a me. Non sono uscito perché ho visto tranquillo, non è un ragazzo aggressivo la cosa. Qua bisogna vedere approfondire le cose, è facile a dire uno così. I carabinieri dicono che lui ha collaborato. E ha collaborato però ancora non è finito, ha collaborato 18, 17 anni è normale che deve collaborare. Tra l'altro il corpo è trovato veramente a pochi metri da casa vostra. Ma bisogna, ma io non escludo, non escludo che può essere lui, ma non escludo che può essere un altro più oltre di lui. Che ne sa? Perché lui è 17 anni a fare tutte queste cose. Quell'amico dov'è? La sorella sua che veniva dice stava lo stesso via che sapeva. Che giro stanno? Allora sapevano tutti che stavano qua ma facevano finito che no. Allora pure io devo vedere poi dal mio figlio che cosa è successo, che cosa hanno fatto convincere. Perché quell'amico che è arrivato da Parma qua a piazza è lasciato là. Che cosa voleva far sapere? Non sappiamo però se davvero ci fosse quest'amico per ora sembra che l'abbia accompagnato. Ma il sito lo dice? Non io. Una dice la sorella, un sito dice l'amico, una così. Le indagini stanno in corsa, non è che io posso uscire sopra di loro. Se forse è mio figlio, a me mi è dispiaciuto prima per la vittima, poi dopo se forse è così chi sbaglia pagherà. O forse mio figlio, forse mia madre, forse un altro pagherà. Però bisogna aspettare tutte le cose così. E bisogna che le indagini siano fatte bene no? E' precisa, è precisa. Perché bisogna vedere pure un po'. E non può scrivere dice un 17 anni fa convincere un 42 anni. Ma le aveva mai dato preoccupazioni? Ma niente, perché doveva chiedere un ragazzo tranquillo. Non lo so ne manco io che cosa è appresso. Io non l'ho visto proprio. Io quel giorno che sono andato là, sono andato al Carabiniere, stavo dall'altra parte, non l'ho visto più. Poi è arrivato l'avvocato, c'era l'avvocato in mezzo. Io non è che mostro l'indagine che cosa si fanno. Adesso è al Beccaria il suo figlio, quindi lei non ci può parlare ovviamente. E' ovvio, finché si fanno le cose, poi là sono gli avvocati che... Quindi secondo lei ci sono dei complici? Almeno un complice o più di un complice? Come? Secondo lei c'è almeno un altro ragazzo? No, secondo me. Secondo il sito che legge sul telefonino dice che... C'è un'altra persona. Testo alle parole. Poi non lo so. Non è che è venito tutti quanti. Grazie. Grazie.